...normativo e regolamentale della presenza del Consiglio dei Conti, ma è una cosa giusta affinché lei si poticasse per la loro presenza, visto e considerato anche la mia nota dell'11 aprile 2018 inviata a tutti i consiglieri comunali e alla Procura regionale per la Corte dei Conti della Campania, che segnala non poche irregolarità rispetto a questo atto posto alle ordine del giorno, a quale voglio sottolineare a tutti i consiglieri comunali che ancora oggi non ho avuto un po' di scontro rispetto alle tante irregolarità manifestate. Grazie. Grazie consiglio di pubblicità. Procediamo all'ordine del giorno. Primo caso, l'ordine del giorno. Approvazione del potente comunque di programmazione di un perciotto di un valente. Presentazione al Consiglio Comunale delle conseguenti di deliberazione. Prego. Assessore Ederoso, siamo sul primo capo. DUP. Allora, bene, va bene. Appena in un'interpreazione di presentiamo, si è il dubbio quando riguarda l'attrovazione dell'avvento potente tornare. Grazie. Allora, sul tuo bocchetto, un'interpreazione... il sindaco chiede di intervenire nella sessione del posto. Grazie.